Le cose belle della vita sono tante, sono veramente tante, ma non sono sicuramente tornare a Milano, se non fosse per quello che ho trovato sulla mia scrivania, il nuovo numero dell'orologio che a Palinuro, dove ero in vacanza, non c'era, non lo consegnavano. Ergo invece questa volta ce l'abbiamo, perché questo? Perché su questo numero che è agosto e settembre, quindi mi auguro che siate ancora in vacanza per leggervelo, in alternativa avete tutta settembre per leggervelo, trovate un altro mio articolo ancora una volta. Mi trovate a pagina 44, che sto cercando così insieme a voi, a parlare di un orologio nuovo, il nuovo Langhe, il nuovo crono rattrapante di Langhe, molto bellino anche se non l'ho ancora visto al polso, con la mia prospettiva e un po' di info a riguardo. Andatevelo a comprare e se perdete questo ci vediamo al prossimo numero perché mi troverete, penso, tutto l'anno sull'orologio. Buone vacanze, buon rientro a tutti, andate a leggere e fatemi sapere cosa pensate.